No, grazie. Va bene, va bene, va bene. Dai! Dai Maria, dai Maria, dai Maria! È tuo! Dai Maria! Eh no! Fagli le coccole! Sei un peperoncino, Maria! Guarda, guarda, guarda. È forte! La regina! Sì, che bello è che era un peperoncino. Adesso si trovi quei vecchi giocatori inglesi, porti. Un filo di faccia, non si è? E via, arbitro! Rotola! A dieci! A dieci! Filo! Ma povera! Avanti, avanti. Ma Luca, sì! Dai, Vicky! Dai, Vicky! Dai, Vicky! Dai, Vicky! Dai, Vicky! Dai, dai, Paolo! Dai, dai, Paolo! Dai, Vicky! Ma guarda, guarda, guarda! È un quadro! È un quadro! Non me è plastica! Nudo! Nudo! No! È un quadro, è che non è sempre. Se voglio, non ci rispettare dieci malattie. No, no! Uh! Paolo! 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 Almeno sollevata! è un amor che non avanza è rossa cane e mi fanno ridere sono felice di entrare la borsa a peggi si Charlie ccialli e un mito pensavo Abbrè avanti ultimazione ultimazione non è la festa dei mongoli è il padre di quella bambina lì fuori dai charlie non si capisce mai i piccoli novi se ci sono vetto sulla palla questo gioco avremmo dovuto fare non è in fuorigioco ha calciato un porco dio è lui non è faina non è faina la partita è finita la partita è finita molto bene grazie grazie